Caro Samuele di dieci anni fa, so quello che provi senza poter vedere gli amici e senza andare a scuola. In un momento in cui non si può uscire di casa e si deve portare una scomoda mascherina e dei guanti. In un momento in cui i bambini possono uscire poco. In un momento in cui il mondo si trova in difficoltà. La tristezza di chi ha i nonni e i parenti contagiati. Quindi tra dieci anni il coronavirus sarà scomparso da un pezzo, perché hanno trovato la cura. Tutto con il tempo e la pazienza è tornata alla normalità, anche se il numero di abitanti nel mondo è diminuito. Ora che tutto è tornato alla normalità, io ho realizzato il desiderio che ho sempre avuto. Diventare un calciatore famoso che si diverte lavorando, pensando che non sarebbe stato così semplice. Invece ha continuato a giocare, nonostante tutto, perché il divertimento era sempre uguale. Forza e coraggio non abbandonare il tuo sogno, perché si potrà realizzare nonostante le difficoltà. Tanti saluti da Samuele del futuro.